Piscina e le grazie è il luogo ideale per passare qualche ora all'insegna del divertimento e della cura del corpo. Nell'area esterna una vasca per i più piccoli con due scivoli e una vasca olimpionica, oltre a campi da beach volley e un ampio prato allestito con lettini ed ombrelloni. Per divertirvi con gli amici ogni mercoledì, beach summer night con vasche illuminate e campi da beach volley a disposizione fino a mezzanotte e ogni fine settimana alle 17 corso di Zumba gratuito. Inoltre attività di acqua fitness come idrobike, acquagym e la novità dell'estate water running per mantenere la forma fisica grazie ai benefici della corsa in acqua. Corsi di acquaticità neonatale, corsi di nuoto intensivo per bambini e adulti, nuoto sincronizzato, apnea, pallanuoto maschile e femminile e settori agonistici. Per i più piccoli campus estivo aperto dalle 7.30 fino alle 18.30 con svariate attività sportive, ricreative e momenti dedicati ai compiti. Nell'area interna, palestra per attività di fitness terrestre, di Zumba e di attività olistiche. Nuovo centro benessere, comprensivo di sauna, bagno turco e docce emozionali con zona relax. Centro estetico e consulenza fisioterapica e nutrizionale. Da settembre, palestra pesi con macchinari isotonici e cardi. Aree ristoro, possibilità di abbonamenti e pacchetti completi per soffrire di convenzioni e prezzi speciali. Piscina e le grazie, vi aspetta tutti i giorni in strada Le Grazie a Verona.